Ricercare tutte le possibili soluzioni per fare in modo di non compromettere il futuro dei lavoratori treofan e del mantenimento delle attività produttive. È quanto affermano le sigle sindacali CGL e CISL e WILL in un comunicato congiunto redatto dopo l'ultima riunione al MISE. Il prossimo tavolo sarà preceduto da riunioni a livello locale per approfondire e mettere ancora una volta in discussione il piano industriale. Il tavolo tecnico intermedio, per quel che concerne il sito di Battipaglia, si terrà il prossimo 27 febbraio alle ore 15 presso il Grand Hotel Salerno.